Buongiorno a tutti. In questi video di questa settimana affronteremo l'argomento JavaScript nel browser. Quindi come possiamo utilizzare JavaScript all'interno di una pagina web, all'interno del browser come ambiente, che ovviamente ha delle differenze rispetto all'utilizzo che facevamo all'interno di Node. Quindi l'obiettivo di questa serie di video sarà prima di tutto capire come caricare e utilizzare JavaScript all'interno di una nostra pagina web, dopodiché imparare che cos'è il DOM, come manipolarlo e come applicare dello stile manipolando il DOM e poi come gestire gli eventi all'interno appunto del browser, all'interno di un sito. Vi ricordo che noi abbiamo già incontrato gli eventi quando parlavamo della programmazione asincrona, di event loop e all'interno di Node, quindi dall'interno di Node e per esempio setTimeout era uno di quegli eventi e generava uno di quegli eventi che abbiamo poi trattato appunto alla fine del timeout per eseguire delle operazioni. Quindi partiamo da la cosa più facile, come caricare JavaScript nel browser. Ci sono alcuni modi di caricare JavaScript all'interno di un sito web, all'interno di un browser. JavaScript deve essere caricato all'interno di un documento HTML e si può fare principalmente in due modi. Il primo, entrambi utilizzano un tag che si chiama script. Il primo modo è usare il tag script e mettere poi il codice JavaScript in line. Quindi tag script, codice, JavaScript, che vogliamo. Questo è un esempio di una funzione messa a disposizione del browser, ma noi potremmo creare una variabile con let, potremmo fare delle operazioni, potremmo usare altre funzioni. E poi il tag di chiusura script, per indicare che questa porzione è tutto JavaScript, oppure con un caricamento esterno. Quindi sempre utilizzando il tag script, ma invece di riportare il JavaScript all'interno appunto tra i due tag, indicare che il sorgente di questo JavaScript è da recuperare da un file che sarà per esempio posizionato nella stessa cartella del file HTML che avrà un nome .javascript. Qual è la differenza, diciamo, principale? La differenza principale è che il modo in line viene immediatamente eseguito quando questa porzione di codice viene incontrata. Quindi l'output di questo e di questa porzione è immediatamente sostituita all'interno della pagina HTML laddove questo script si trova. Se questo script si trova all'inizio del body, viene applicato all'inizio del body. Se si trova alla fine del body, viene applicato alla fine del body. Questo è tipicamente una brutta pratica al giorno d'oggi e quindi da evitare il più possibile, da evitare in generale, perché è difficile da mantenere avendo pezzettini di codice sparsi su varie pagine web. Bisogna ricordarsi dove è uno, dove è l'altro, come faccia a passare qualcosa da uno all'altro, eccetera. È anche lento da parsificare, da mostrare, perché il browser prima parsifica l'HTML, poi trova un pezzettino di JavaScript e quindi fa quel lavoro, poi ha un altro pezzo di HTML, poi ha un altro pezzo di JavaScript e quant'altro. Il modo più, diciamo così, corretto e utilizzato è quello appunto di usare il caricamento esterno, dove JavaScript è caricato da uno o più risorse esterne, esattamente come caricavamo uno più file CSS, e quando è riportato in questo modo, il file è caricato ed eseguito interamente dall'inizio alla fine, dopodiché il processamento dell'HTML continua. Notate che è sufficiente scrivere script src uguale a nome del file, non c'è bisogno di mettere type test JavaScript, perché per script è il default test JavaScript, quindi è ridondante. Si può mettere, ma non è necessario. Dove mettiamo questo script tag? Dato che appena viene incontrato, viene letto il contenuto del file e viene eseguito interamente, dove lo mettiamo ha una sua importanza. Allora noi abbiamo già visto con Bootstrap che Bootstrap raccomanda di metterla alla fine del body. Questo è una buona pratica, in quanto è molto efficiente dell'altra opzione, che è quella di metterla insieme a file CSS, per esempio, nel LED. Perché? Perché nel LED, anche se forse potrebbe essere il suo posto, diciamo, ideale, perché ci sono i metadati, c'è il CSS, c'è il JavaScript e poi c'è l'HTML ben separato, questo ha però il problema di essere molto inefficiente, in quanto il processamento dell'HTML viene subito interrotto qui e non si renderizza, non si visualizza niente della pagina, in quanto nel LED non ci sono elementi da visualizzare, e finché questo script non è finito. Quindi se questa, finché l'esecuzione di questo script non è finita, quindi se questa esecuzione è molto lunga, questa pagina rimane bianca sul browser al nostro utente per molto molto tempo. E inoltre può essere anche inconveniente, perché lo script magari deve modificare un tag specifico all'interno del body, ma essendo eseguito prima che il body venga renderizzato, questo elemento non esiste ancora, quindi non può ancora manipolarlo. E quindi bisogna fare una serie di considerazioni, diciamo, trucchettini per evitare. Quindi, diciamo, fino a ieri, fino a quello che abbiamo fatto, il posto migliore per questo tag script è in fondo al body. Ci sono alternative moderne che vedremo in fondo a questa lezione, che ci permetteranno di avere un risultato simile di questo tag messo in fondo al body, ma permettendoci di metterlo nel led, che è appunto una soluzione un po' più pulita da un punto di vista del codice. Cosa succede quando un file JavaScript viene letto e viene eseguito? Come sappiamo, il codice JavaScript viene caricato ed eseguito all'interno della sandbox, all'interno dell'execution environment, questa volta del browser. Il browser mette a disposizione, oltre a JavaScript base, quindi gli oggetti, le re, le funzioni, tutto quello che abbiamo visto che è proprio del linguaggio, che è proprio della specifica di ECMAScript, mette a disposizione una variabile globale di contesto, che si chiama window, a cui sono attaccati una serie di API, una serie di metodi, questi BOM che stanno per browser object, che permettono di manipolare e accedere a delle proprietà specifiche del browser, facciamo un esempio, la history, quindi il poter accedere alla pagina visualizzata in precedenza all'interno del browser, o la pagina visualizzata due volte fa, l'equivalente del premere la freccia indietro nel browser. E a questo oggetto globale, contesto che si chiama window, anche attacchiamo il DOM, quindi il document object, che ha invece una serie di metodi, una serie di proprietà, per manipolare non il browser, o leggere le informazioni dal browser, ma per manipolare il documento HTML a nostra disposizione. Ovviamente possiamo caricare più di uno script, nell'esempio che abbiamo fatto con Bootstrap, se avete incollato il template di partenza, ne abbiamo inseriti tre script diversi, i tre script sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro, viene eseguito prima il primo, poi il secondo, poi il terzo, ma tutti hanno accesso alla stessa variabile window, e allo stesso modo, e se volessimo una collaborazione un pochino più strutturata, avremmo bisogno di utilizzare i moduli, quegli stessi moduli che abbiamo visto quando abbiamo parlato di JavaScript e delle classi. Ricordatevi, e questo è solo qui come promemoria, ricordatevi di tutto quello che abbiamo detto a proposito dell'event loop, degli eventi asincroni, eccetera, e degli eventi in generale, che abbiamo detto quando nella video-lezione è relativa a JavaScript asincrono. Perché qui, ovviamente, di tutto quello che parliamo, gli eventi e quant'altro, si riferiscono a quello stesso identico modello, dove la differenza è che qui non accederemo alle funzioni messe a disposizione da node da node e agli eventi messe a disposizione da node, come per esempio la redline, che ci permetteva di leggere la terminale, ma useremo le funzioni messe a disposizione del browser, quindi il BOM e il DOM. Ovviamente, lo ripeto, JavaScript come linguaggio di programmazione è sempre lo stesso. Stesso modo di dichiarare variabili, sempre meglio usare let const rispetto a var, stesso modo di dichiarare le funzioni, stessa proprietà del this, le promise funzionano uguali, le classi funzionano uguali, e quant'altro. JavaScript come linguaggio da specifica è sempre lo stesso. Quello che cambia sono, appunto, le API, i metodi, le funzionalità, le proprietà messe a disposizione dell'execution environment, che in questo caso il browser non è più node sul computer. e ovviamente alcune proprietà sono in comune tra, sono uguali, diciamo, più in comune tra node e il browser. Per esempio, setTimeout, che abbiamo incontrato nel primo laboratorio che abbiamo fatto, esiste anche nel browser, si comporta nello stesso identico modo. Grazie a tutti.